I giovani democratici di Terra di Bari sostengono il progetto Wi-Fi Puglia in quanto credono fortemente nell'utilizzo dello strumento internet. Internet che oggi è sempre più importante ed è purtroppo l'ultimo mezzo di comunicazione in cui poter accedere a un'informazione realmente libera e non vincolata da tutti i sistemi che invece vi sono sulla televisione pubblica e sui giornali del nostro paese. Internet fortunatamente è ancora un baluardo di democrazia nel nostro paese così come lo è stato nei paesi del Nord Africa. In Libia, in Egitto e in Tunisia le rivolte sono partite proprio da internet. Da lì si è potuto condividere quella che era un'istanza sociale di recriminazione di maggiori diritti. E noi in Italia abbiamo tanto bisogno di poter condividere in rete con i ragazzi del nostro paese quelli che sono i tanti problemi che viviamo. A partire dalla disoccupazione giovanile fino ai problemi della scuola e dell'università pubblica italiana. E allora io voglio ringraziare i giovani democratici di Bari che sono impegnati in questo progetto in particolar modo Donato Fiorentino e Domenico Lufu e Paolo Romano che è stata una tra le promoterici del progetto 500 milioni per liberare la Puglia. Voglio anche ringraziare il PD di Puglia per aver sostenuto questa iniziativa dei giovani democratici e fare una promessa. I circoli dei giovani democratici di terra di Bari si impegneranno affinché i 100 comuni pugliesi che ospiteranno il Wi-Fi possano essere anzitutto i circoli della provincia di Bari e per questo già ci stiamo muovendo e su questo ci confronteremo con i nostri ragazzi e i tanti ragazzi dei nostri paesi.